Oggi vi mostro come preparare strozzapretti ai frutti di mare o seafood strozzapretti. Mi chiamo Stefano e nel ultimo video vi ringrazio praticamente tutti i miei membri di famiglia, casini, nepri e così via. In questo vorrei dare un grande grazie ai resti di voi. È anche grazie a voi e a vostre messaggi amici e ai suoi supporti se oggi vi posto un nuovo video. Quindi il video di oggi è dedicato a tutti. Ma cominciamo con gli ingredienti. Pasta fresca, che ho preparato molte volte e preparata con 100 gramme di flore, 100 gramme di flore, 100 gramme di flore, 100 gramme di acqua. Se siete interessati a vedere come è fatto, vi lascio il link nella descrizione. Un migliore migliore di alimenti. Mi piace sempre di aggiungere i fischi, come aggiungere il sapore alla sauce. Pasta fresca, carino, oliva extravergine e tomatose opzionali. Ah, ricordatevi di avere una glassa di vino bianco nel friggio. La prima cosa da fare è preparare la strazzapretti. Se stai seguendo il canale, avrete notato che sto facendo diverse forme di pasta fresca usando solo l'olio e l'acqua. In Italia abbiamo due tipi principali di pasta fresca, con ucchi e con ucchi. Nel futuro avremo avvenuto meglio il tema. Allora, sto cercando di fare una lista di pasta fresca, seguendo questi due tipi principali. Soon sarà la pasta fresca con ucchi. Andiamo a tornare alla strazzapretti prima di questo ragazzo lo messo. Massaggiare il pane dopo restare nel friggio. Sprinquere con l'olio e rilassare nella macchina di pasta, facendo alcuni bordi. Per dare il pane un po' di potenza e raggiungere una thicknessa di 3 mm. Cutta la strazzapretti in rettangoli. Slice la strazzapretti in 1 cm wide. Obtaino una strazzapretta di circa 4 cm in lunga. Una volta che questo è fatto, siamo pronti per formare la strazzapretti. Prendete una strazzapretta e lo twist per passare tra le palmi in una direzione diagona, come se stagliate qualcuno. Ricordate di spingere con un po' di flour la superficie di lavoro. Per me, strazzapretti sono una delle semplici e più rapidi per preparare. Lascia di spingere per 30 minuti o più. Andiamo a vedere la salsa. Qui ho alcuni buoni pezzi per cui rilassavo la pelle. E se vuoi essere piaciuto, lasciate la parte finale del cuore attaccata. Poi rilassavo l'intestino. Andiamo a andare sull'olio, che è già parzialmente pulito in supermercato. Rilassavo l'occhio. Rilassavo le pinze. Rilassavo le pinze. Rilassavo la cavità del corpo per evacuare qualsiasi resti. Rilassavo l'apparatus. Rilassavo l'apparatus. Like so. E cut it into rings. Like so. Ok. I'll stop with this thing. Another thing we will need is some fresh chopped parsley. And this is optional, some fresh cherry tomato split in quarters. As for the shellfish, I like to cook them separately. So that I can remove the mollusk from the shell. To have more control over the flavor that will release into the cooking water. Here I use a steamer for 5 minutes each. You can also pass them into a pan if you don't have a magic steamer. Like me. When the shell are open, pour them in a container taking care to keep the precious liquid. Cool and recover the meat. Here is another good reason to cook them separately. Sometimes you can find one full of sand or spoiled, especially with clams. I usually leave them overnight to purge in lightly salted water. And then I check them one by one. But sometimes it happens, no matter how careful you are. Having completed this task, we are ready with what in culinary terminology is identified as mise en place. Or more simply, preparation. And we can cook our slightly dried strozzapretti. In lightly salted water, our pasta it goes. Stir occasionally and cook for something between 5 to 10 minutes. Just enough time for our sauce to take place. Heat our favorite pan. Add a good glug of extra virgin olive oil and garlic. Give them a bit of time to liking each other. Now start adding the seafood. And since each of them has a different cooking time, I suggest starting with the one that usually take the longer. In my case the squid. Following by prawns. Sprinkle with a good glass of white wine or a glass of good white wine. Let it evaporate, add the cherry tomatoes and cover for a few moments. Check the pasta, drain it, keeping a little cooking water and pour it into the sauce and continue cooking so that the pasta will absorb the humours of the sauce itself. Towards the end, add the pre-cooked shellfish and let the liquid absorb. Season with freshly cracked salt and pepper. Finish with parsley and extra virgin olive oil. Strozzapretti are ready to serve. Did you know that strozzapretti means priest choker or priest strangler? It is a pasta typical of Emilia Romagna, Tuscany, Marche and Umbria regions in Italy. There are several legends to explain the name. Primarily based on the anti-clerical sentiment of those regions. To me they remind one of my very first working experience in Rimini, in Romagna region. Also this pasta can go well with many different sauces like seafood, vegetables, cheeses, nuts, italian sausage. But the one that I like the most is pasticciati with bolognese sauce and cream. And that's all for today's video. Thanks a lot for watching and if you are in the mood press like and consider subscribe. Otherwise, strozzapretti. Let it happen!